Minacce e colpi di pistola per allontanare una prostituta. È successo a Bari dove un uomo di 44 anni, barese, è stato denunciato. Sono stati gli agenti della polizia a cui era giunta una segnalazione telefonica a raccogliere il racconto della donna. È stata lei infatti a spiegare che qualche minuto prima dell'arrivo della volante, un uomo l'aveva minacciata affinché si allontanasse dal luogo in cui si trovava, una strada della periferia di Bari. L'uomo, per essere ancora più convincente, aveva esploso alcuni colpi di pistola in aria. Le ricerche hanno avuto inizio subito dopo il racconto della prostituta e i poliziotti hanno intercettato l'uomo che si trovava a bordo di una utilitaria in cui gli agenti hanno trovato e sequestrato tre pistole a salve con relativo munizionamento, fedeli riproduzioni di modelli in vendita e munite di tappo rosso. L'uomo, un 44 anni di Bari, è stato denunciato per minacce aggravate.